Possibile unire le parole festa e Alzheimer? Ebbene sì, ce l'ha insegnato Gavirate, con la carica profusa ormai da anni dal progetto Ruge, alleato del Comune, del Melo di Gallarate, del curatore Michele Farina e delle tante realtà che rendono possibile esorcizzare la patologia facendo leva su creatività, aggregazione, voglia di vivere. Sono le fortissime debolezze che hanno contagiato tutta Italia e che da Gavirate si propagano in altre quattro città. Lo dimostra il tappeto di post-it, costellati da sensazioni e visioni, ricordi appannati e sogni lucidi, nella mostra collettiva che ha portato al chiostro di Voltore l'energia di chi, alla patologia, reagisce a colpi di talento, coraggio e unicità. C'è tempo fino all'8 ottobre per visitare questa suggestiva esposizione. Non perdetela, ne vale davvero la pena.